Il Consiglio Comunale sull'America SCAP si è aperto con l'intervento del Sindaco dei Magistris, che ha rivendicato l'assegnazione a Napoli come successo politico delle istituzioni, comune, provincia e regione. L'iniziale individuazione di Bagnoli come luogo delle regate è stata superata ma comunque è servita a rimettere in moto il percorso per la riqualificazione di Bagnoli. L'America SCAP, che si farà via Caraccio in aprile, è un mezzo per portare lavoro e sviluppo nella nostra città, oltre a rilanciare l'immagine di una nuova Napoli. Non è un evento di lusso, sarà accessibile a tutti i cittadini e ai turisti e sarà l'occasione per rivalutare il mare. Per le regate di maggio 2013 il Sindaco ha annunciato che si sta studiando per individuare l'area migliore. La scelta è tra Bagnoli, via Caracciolo e un riqualificato Molo San Vincenzo. L'assessore all'urbanistica De Falco ha spiegato che l'allungamento della scogliera di via Caracciolo è pienamente rispondente alle previsioni del piano regolatore. Dopo l'evento i massi non saranno portati via ma riportati a livello più basso per rinforzare la scogliera esistente. Il Vice Sindaco Sodano ha garantito che gli allestimenti che si realizzeranno sulla terraferma saranno tutti provvisori, leggeri, non impattanti sull'ambiente. Ed ha comunicato gli interventi di riqualificazione che si faranno per la villa comunale. Il dibattito del Consiglio ha visto l'intervento di numerosi consiglieri comunali e si è concluso con l'approvazione di quattro ordini del giorno sull'evento. Grazie a tutti.